Allora, buongiorno a tutti. Io sono Eliana Martinelli e sono stata segnista di ricerca per tutto il biegno presso il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze e adesso sono invece ricercatrice all'Università di Perugia, quindi diciamo anche a me è servito come step per la mia carriera ed è stata un'esperienza importante che ha trattato appunto, l'assegno si chiamava Stages of Memory, Regeneration of Stansalvi Heritage Community, quindi il tema era quello delle comunità ereditarie e della rigenerazione urbana a partire appunto dall'apporto delle comunità, in questo caso la comunità era quella di riferimento, era quella legata alla compagnia teatrale Chille della Balanza a Stansalvi, quindi la ricerca ha diciamo riguardato la rigenerazione del patrimonio materiale e immateriale dell'area dell'ex ospedale psichiatrico, tramite lo studio e la realizzazione, quindi c'è stata una realizzazione concreta di interventi strutturali e culturali legate a forme di arte site specific, quindi in questo caso rigenerazione intesa come ricostruzione dei luoghi della memoria, grazie a una serie di pratiche partecipative che hanno coinvolto tutta la comunità legata all'area in termini sia fisici, quindi gli abitanti, sia testimoniali, quindi gli ex operatori e gli ex pazienti, sia culturali, quindi gli artisti e gli studenti del Dipartimento di Architettura e dell'Accademia delle Arti. Gli interventi hanno intervenuto appunto sulla rilettura di questo patrimonio, sull'interpretazione attraverso lo studio di allestimenti sia permanenti che temporanei e si è avvalso quindi tutta una serie di documentazioni raccolta negli anni in maniera informale da Chille della Balanza, quindi documentazioni e testimonianze che sono state portate alla compagnia teatrale perché non esiste di fatto un archivio della memoria di San Salvi e l'obiettivo ultimo quindi è quello di proporre appunto un progetto di architettura e di allestimento che proponga appunto la consultazione, il loco di questo materiale e anche una reinterpretazione attraverso il progetto, quindi come forma di appropriazione da parte della comunità e quindi l'area appunto su cui si è intervenuto è quella dell'ex manicomio San Salvi che è un'area enorme di 32 ettari circa e che di fatto è una città nella città che ha avuto nella storia diverse fasi appunto di scostamento rispetto alla vita urbana, prima quella appunto del manicomio, poi anche nella fase di superamento e tuttora non è un'area completamente integrata anche se sappiamo che gli sforzi da parte delle amministrazioni sono molti e che proprio in questo periodo è stato approvato nel nuovo piano operativo del Comune di Firenze delle modifiche orientate diciamo alla rigenerazione concreta dell'area. L'ente proponente era il Dida, l'operatore culturale come ho detto Chille della Balanza, i partner erano Simdea, Società Italiana per la Museografia e i Bene di Amoetno Antropologici Fondazione Franca e Franco Basaglia e la Fondazione Cassa di Risparmio e gli enti finanziatori oltre a Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio e Chille della Balanza stessi. Quindi la struttura del progetto si è articolata in tre fasi, una era soprattutto intorno a tre obiettivi, il primo era l'istituzione di pratiche per la rigenerazione comunitaria e territoriale dell'area attraverso una fase di analisi che nella mia idea era già progetto, quindi l'analisi come già progetto di architettura e che inquadrasse appunto l'ospedale di San Salvi nella rete, nel sistema territoriale di ospedali psichiatrici della Regione Toscana l'attivazione di pratiche partecipative finalizzate al progetto e la sintesi nella strategia di intervento e di una sua possibile replicabilità a livello regionale ma anche nazionale molti sono stati gli interlocutori nazionali con cui mi sto confrontando e mi sono confrontata sia per quanto riguarda il Museo della Mente di Roma nella figura di Pompeo Martelli sia per l'ex ospedale psichiatrico di Gorizia nella figura di Giuseppe Nascavuzzo e altri interlocutori quindi c'è stato veramente una creazione di rete che secondo me è fondamentale nel poi sviluppare un progetto di architettura di questo tipo è stato quindi poi elaborato un progetto pilota concependo l'intera area come museo attivo quindi non in senso museografico stretto tradizionale ma come luogo dell'incontro della reinterpretazione della memoria e infine è stato elaborato un focus di progetto su un museo archivio della memoria di San Salvi localizzato in un preciso punto dell'area e che ha compreso quindi l'analisi della documentazione disponibile e la sua riproposizione in termini di allestimento quindi come ho detto l'analisi è stata fondamentale sia per capire le valenze, le opportunità dell'area sia le carenze socioambientali ed è stato possibile appunto così stabilire una coscienza profonda della storia non solo del manicomio ma del suo superamento che è poi la chiave di volta del progetto l'attivazione di un confronto diretto con le istituzioni anche questo è stato importante ho interlocuito con il comune, con la cassa di risparmio, con gli enti regionali, con la ASL e infine la divulgazione dei risultati perché anche questo è stato una tappa importante nella definizione di un progetto cioè la divulgazione, la promozione dei risultati nella comunità ha permesso di avere delle risposte che sono poi entrate nel progetto di architettura che quindi si è poi inserito nel sistema territorio e con i piani urbanistici. L'analisi, ora scorro velocemente delle immagini per far capire che l'analisi ha compreso appunto sia analisi di mappature catastali antiche, di documentazioni storiche della formazione del manicomio dei disegni di Giacomo Roster che ha appunto il progettista del manicomio che è stato inaugurato nel 1891 in un'epoca in cui il manicomio, cioè l'architettura e la psichiatria erano connegate cioè la psichiatria riteneva che l'architettura fosse il modo per superare il disordine delle passioni quindi un ordine stretto architettonico in positivo serviva in qualche modo come terapia e quindi è stato fondamentale capire questi principi e la relazione fra architettura e psichiatria e come questa relazione poi sia stata sovvertita da Giovanni Michelucci che invece nelle sue proposte per gli anni 60 di sviluppo urbano di Firenze proponeva i luoghi della chiusura, della detenzione quindi San Salvi e il carcere delle murate, i fulcri per un progetto, per una rigenerazione a base culturale della città e che fosse fuori dal circuito mainstream diciamo della cultura fiorentina perché poi anche questo è un tema, cioè riportare una rigenerazione culturale che si affaccia ad altri luoghi di Firenze e che quindi sia parte di un sistema turistico minore ma non in meno importante l'analisi delle fasi del superamento del manicomio quindi come di fatto il superamento a San Salvi diversamente da altri manicomi regionali si è avvenuto a partire dal basso quindi dalla comunità che è intervenuta attraverso l'arte quindi attraverso la realizzazione del murale attraverso le creazioni nella Tinaia insieme ai pazienti ha iniziato ad aprire quindi il manicomio alla cittadinanza queste analisi sono state riportate in dei disegni interpretativi che hanno previsto appunto che hanno riassunto la periodizzazione dell'area perché anche in questo caso non c'era stato mai un vero studio dal punto di vista architettonico pertanto era importante capire le varie fasi e in questo mi sono confrontata anche con docenti di storia della medicina quindi con psichiatri quindi è stato veramente un progetto transdisciplinare analisi che poi cercato di comprendere quali fossero i punti su cui intervenire e che ha quindi portato a degli eventi di divulgazione il primo è stato passeggiando a San Salvi cofinanzato dal comune di Firenze in cui si è proposto una passeggiata appunto volta alla promozione di un circuito turistico alternativo all'interno dell'area di San Salvi e che avesse diverse valenze valenza storica quindi portata avanti da Claudio Ascoli di Chilea Balanza che ha riportato di fatto la sua tradizionale passeggiata articolandola però con i miei interventi dal punto di vista architettonico e quelli di una paesaggista e questo cosa ha portato? Ha portato all'individuazione di alcune tappe, alcuni momenti di San Salvi e in questo senso stages of memory cioè le tappe in senso fisico ma anche le tappe in senso temporale di superamento e infine le tappe della memoria intesi come quelle fasi della memoria che relaborano il ricordo e arrivano appunto alla trasformazione della realtà questi sono alcuni dei punti salienti di San Salvi che sono stati analizzati più approfonditamente e la cui poi storia è entrata a far parte di un successivo progetto che è Spacciamo Culture, progetto che si è svolto nei tre anni del mio assegno e che ho coordinato io appunto dal punto di vista operativo mentre Chille della Balanza è stato proprio l'ente organizzatore che lo ha promosso e Spacciamo Culture ha portato alla realizzazione di allestimenti autocostruiti dagli studenti del Dipartimento d'Architettura in collaborazione con la comunità e con gli studenti anche dell'Accademia di Belle Arti quindi allestimenti autocostruiti vuol dire che la terza missione dell'università ha veramente operato in questo senso concreto gli studenti sono venuti, hanno reinterpretato la storia, la memoria che veniva raccontata, hanno vissuto il luogo e hanno prodotto dei progetti che sono stati realizzati da loro stessi quindi progetti che hanno lavorato sul tema della comunità come in questo caso progetti che hanno lavorato sul gioco ora scorro velocemente perché i minuti non sono molti sul gioco attraverso il riuso dei materiali di recupero anche trovati all'interno dell'area quindi playground, strutture diciamo realizzate proprio con gli visitatori che venivano e cooperavano nella realizzazione interventi di poesia visiva o di reinterpretazione della memoria attraverso delle frasi e delle installazioni artistiche appunto il cui significato è molto complesso non lo posso qui descrivere però ve le scorro in termini visivi ancora una volta il gioco perché è un elemento fondamentale il muro reinterpretato come playground che poteva essere ricostruito il flipper che reinterpreta la struttura diciamo fisica di San Salvi sovvertendola come un labirinto e infine il progetto di architettura che ho elaborato che ho prodotto in termini di allestimento in uno dei corridoi tangenti i corridoi coperti tangenti il padiglione 16 di Chile della Balanza corridoio che aveva avuto una storia particolare perché erano stati realizzati proprio per collegare i diversi padiglioni in cui erano detenuti che così erano le persone secondo il loro grado di malattia e che avevano diciamo la doppia funzione di collegamento ma anche di panopticon quindi di sorveglianza e all'interno di questo corridoio ho sviluppato il progetto di un museo, museo della memoria che appunto si sviluppasse secondo diverse fasi diverse tappe fino ad aggiungere al superamento quindi raccontasse non il manicomio ma il superamento del manicomio quindi la prima è l'analisi del luogo in questo ho avuto la fortuna di svolgere il progetto in consulenza con un'azienda che è Space di Prato che ha verificato la fattibilità tecnologica degli allestimenti questa è un'altra sala chiamata Ordine e Disordine dove appunto si vuole mettere in luce questa relazione fra architettura e psichiatria avvalendosi delle foto di Renato Bartolozzi degli anni Sessanta e di altri le storie raccontate dagli attori che verranno nell'ipotesi progettuale raccontate dagli attori di Chiedere della Balanza ma che raccontano le storie dei personaggi chiave internati nel manicomio come appunto Dino Campana ma anche Francesco Romiti l'artista che ha lavorato per anni qui la stanza di identità acquisita cioè le foto di Renato Bartolozzi fatte per i documenti degli internati che cominciano ad acquisire di nuovo la propria identità entrano a far parte di un allestimento dove il visitatore può facendosi una foto proiettare la propria foto insieme a quelle dei matti per dire che di fatto la comunità legata a San Salvi siamo tutti noi e siamo nei secoli diciamo nel tempo che ha trascorso la comunità all'interno dell'area quindi in diversa maniera ma poi di fatto siamo tutti noi e al cinema teatro un altro edificio chiave è che entra a far parte di un progetto di allestimento che riporta le misure di una campata del cinema ma all'interno del quale viene proiettata la storia di un document film che narra la storia di Costanza Caglià e Torello Vannucci un amore nato nel manicomio il superamento quindi finalmente si arriva al superamento nel 78 con la realizzazione del murale e la grande festa di apertura del manicomio alla comunità e anche qui entrano attraverso un pannello interattivo si possono cogliere le storie che narrano questo superamento gli output sono stati moltissimi molte partecipazioni a diversi convegni ma soprattutto ci tengo a dire che è adesso in fase di pubblicazione una monografia chiamata Stages of Memory strategia per la regenerazione dell'ex manicomio San Salve a Firenze che sarà pubblicata entro l'anno per tab edizioni a Roma e quindi concludo con questa immagine dove mostro una delle installazioni chiave di Spacciamo Culture che è diventata il simbolo di questo progetto e anche del futuro di San Salvi e che io credo sia un progetto questo assolutamente replicabile in altri manicomi toscani e non solo anche se chiaramente bisogna considerare che a Firenze esiste un presidio culturale che è chi le da balanza e non in tutti esiste e quindi dipende diciamo da poi a quel punto diventa importante l'apporto delle istituzioni nel creare un presidio all'interno e nel dare l'opportunità di creare questi presidi perché solo così si riesce poi a intervenire a livello comunitario con i progetti grazie 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 grazie